Cari con i cittadini, la settimana inizia lunedì 16 con una miriata di impegni del sindaco. Il super sindaco De Luca, a cui ormai ci siamo abituati, inizia dalle prime ore della giornata sino a notte fonda. Sono precettate anche buona parte degli assessori che non sono da meno del sindaco nel dedicarsi anima e corpo alla loro missione. Tutti i dirigenti dell'ente sono visti per una puntuale ricognizione sullo stato dell'arte dei loro dipartimenti. Si inizia di buon mattino alle 7 circa e si termina con l'ultimo incontro fissato alle ore 23 che si potrà naturalmente in tutta la nottata. Martedì 17, chi non si è ancora convinto della rivoluzione De Luca si rifugia nell'antica saggezza popolare. Scopa nuova fa rumore e il rumore fragoroso per la verità si è avvertito nelle arterie cittadine dove si è intervenute per abbattere pericolosi alberi o per rimuovere rifiuti ingombranti, incivilmente depositate o per le pulizie straordinarie di strade e spiagge. Azione normale in un'efficiente ed efficace gestione dei servizi. Ma per richiamare una celebre espressione del giornalista Antonio Lubrano, una domanda sorge spontanea. Dove erano prima questi mezzi e questi uomini? Nella giornata si innesta pure un'aspra polemica sul miele di origine ungherese servito dal bar di Palazzo Zang. De Luca avrebbe preferito gustare quello prodotto a salice, qualcuno insinua, quello prodotto da un suo amico o un suo sostenitore. L'Ungheria fortunatamente non ci ha ancora dichiarato guerra, nemmeno quello degli Dazi che è la guerra più moderna. Però il gestore ha minacciato una querela all'autarchico sindaco. Da Palermo giunge una buona notizia. La messinese onorevole Elvira Amata è eletta presidente della Commissione Statuto dell'Assemblea Regionale Siciliana. Un ottimo incarico, un incarico importante. Mercoledì 18 invece le dichiarazioni del primo cittadino sulla necessità di ridurre il costo del personale comunale generano gli effetti di una bomba atomica lanciata sul Palazzo Zang. Il sindaco reputo, anche viste le disastrate condizioni di bilancio, eccessive le risorse economiche destinate ai dipendenti e in particolare evidenzia quelle prodotte dalle ultime 123 promozioni. 107 hanno riguardato le posizioni, le Pio, le cosiddette Pio e 16 le alte professionalità. Le 107 posizioni organizzative e le alte professionalità incidono per circa 2,1 milioni di euro. Un lusso che il Comune non si può permettere. Pertanto il sindaco provvederà anche in autotutela a sospendere gli effetti degli atti approvati. Apre di cielo! Nei corridoi di Palazzo Zanca non si parla d'altro. Molti sono preoccupati della piega autoritaria del sindaco. E De Luca alza il livello della polemica. chiedendo attraverso un video postato su Facebook ai colleghi, li chiamo proprio così, colleghi dipendenti del Comune, di evitare di bivaccare nei corridoi o davanti alla macchinetta del caffè. Naturalmente i sindacati protestano e manifestano preoccupazione per un messaggio contenente una pericolosa equazione. Comunale uguale farnurrone. E giovedì 19, altra provocazione del sindaco De Luca. Comunica la ricerca di attacchini per denunciare che nonostante la presenza di circa 200 dipendenti il cui profilo prevede anche attività manuali, i dirigenti notificano l'assenza di personale idoneo all'attività richiesta. Intanto si risvegliano i numerosissimi messinesi utenti, arrabbiati con la pubblica amministrazione, che dopo aver postato un mi piace sulla pagina del sindaco, attono una sorta di gioco la lapidazione virtuale dei farnurlone. Nel mentre giunge però inquietante una notizia di un'aggressione di una dipendente comunale da parte di una cittadina. La CGL, la CISL, che in tempi normali avrebbero archiviato come incivile ordinaria follia, associano l'episodio al clima di caccia alle streghe instaurato a Palazzo di Bianca. La buona notizia di oggi invece arriva da Roma. Giampiero D'Alia entra nel consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Il prestigioso incarico per l'ex ministro messinese conferma però la volontà di appendere definitivamente le scarpe al chiodo della politica. Noi cosa possiamo dire? Era un politico di razza e speriamo che i messinesi non abbiano a che pentirsi. Intanto venerdì 20 luglio ci sono altre novità e cioè chi era sconfitto nelle ultime elezioni amministrative stava preparando la rivincita per puntare alle prossime consultazioni per il governo delle che se province può riporre le armi. La Corte Costituzionale ha bocciato la norma votata dall'Assemblea regionale siciliana e obbligato la Regione ad applicare la legge vigente che prevede elezioni cosiddette di secondo grado, cioè non votano i cittadini ma i consiglieri comunali. Un primo importante effetto di questa decisione è che il sindaco del Teruto è formalmente nominato anche sindaco metropolitano. Il sabato 21 la notizia che rompe nelle vacanze dei messinesi è quella che riguarda Franco Antonio Genovese e il figlio onorevole Luigi e altri otto indagati. Le accuse mosse dalla procura di Messina contestano agli indagati reati di natura finanziaria tra cui della sottrazione dell'imposta, riciclaggio, impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita. Accuse gravi ma per un giudizio definitivo come per tutti bisogna attendere anche le contraddeduzioni della difesa. Domenica 22 ai bagnanti rilassate lungo le spiagge del meraviglioso ritorale messinese magari a sognare il ripescaggio della CR Messina in serie C tra i professionisti del calcio. Vi avvisiamo che possono incrociare il sindaco Cateno De Luca che in pantaloncini corti d'ordinanza, oggi era a Santa Margherita, è impegnato a pulire i lidi dai rifiuti lasciati incivilmente dai fruitori. E la storia continua la prossima settimana. Buona vita!